Sono sei padovani coinvolti in un'organizzazione multietnica dedita al traffico internazionale di stupefacenti, a fermarli i carabinieri di Venezia che da oltre un anno sono sulle tracce della banda. 20 le ordinanze di custodia cautelare, 41 gli indagati, i mezzi italiani, Moldavi, Ucraini, Albanesi e fiumi di droga. Circa 200 chili sono stati sequestrati in un anno, marijuana dal principio attivo elevatissimo, ma anche cocaina, droga che finiva davanti alle scuole della regione. La gran parte di questa sostanza stupefacente era destinata purtroppo a molti minorenni e soprattutto nei pressi delle scuole, cioè che è quella la cosa che ci ha più allarmato, preoccupato. La droga partiva dalla Spagna, arrivava in Italia via Corriera, nascosta nei bagagliai, o dalla Germania trasportata da corrieri consapevoli su auto di grossa cilindrata. La droga poi nella regione viaggiava su taxi da Vigonza a Venezia, ad esempio, o su auto di lusso. Una banda scaltra, cui i carabinieri hanno inferto anche un duro colpo a livello patrimoniale, confiscando beni per un milione di euro. Perché è stato quantificato sostanzialmente per ognuno di loro, quanta sostanza stupefacente hanno venduto e quindi per lo stesso importo dovranno restituire allo Stato. Un'operazione che nel Padovano si è concentrata nella zona delle Terme, dove erano attivi due corrieri stranieri e due italiani.